Sono Elenia, ho 22 anni e sono un'ostetrica. Il mio sogno era di praticare la mia professione nel Regno Unito. Sono Michele, sono napoletano, sono un ingegnere, abito nel centro della città. Per la mia professione è necessario conoscere fluentemente l'inglese. Ho scelto MyClass perché avevo bisogno di imparare in breve tempo l'inglese e raggiungere un buon livello. Con un'applicazione su tablet prenoto in tempo zero e frequento quelle due ore che a me servono. Grazie all'app ho la possibilità di prenotare la mia lezione fino a un minuto prima. Mi permette di tenere sotto controllo i vari orari, le lezioni, di poter pianificare il piano di lavoro. La grande flessibilità di questo sistema mi dà la possibilità di arrivare al livello di inglese che desidero nei tempi che io stabilisco. La lezione mi piace tantissimo perché c'è la possibilità di entrare in contatto direttamente sia con gli altri studenti e quindi avere un confronto immediato che con i professori. Ho conosciuto molte persone che hanno vite molto simile alla mia per cui abbiamo creato dei gruppi per poter parlare in inglese al di fuori della scuola. È un sistema comodo, flessibile ed è molto adatto a chi ha una vita caotica come la mia. Ho raggiunto un buonissimo livello di inglese in breve tempo proprio perché il metodo è veramente eccezionale.